Buongiorno a tutti, oggi è domenica 23 giugno Questa volta siamo a pescare, un video un po' diverso Peschiamo a Mosca, io oltre ad andare a caccia pesco anche Molto meno, pratico molto meno della caccia ma mi diverto molto, mi diverte molto Pesco principalmente a Mosca e faccio due o tre uscite l'anno Purtroppo non riesco a fare di più Oggi siamo in Slovenia, abbiamo fatto un paio di giorni di pesca Questo è il secondo giorno, sono le ultime due o tre ore prima di ripartire verso casa Allora ho detto ma facciamo un video E niente E' un video un po' diverso Siamo in una risorgiva, peschiamo principalmente trote Trote fari e trote iridee E nulla, vediamo come va queste ultime due o tre ore Questa fine di giornata, dovrebbe essere il momento più proficuo A hardly più Ah beh lo Grazie a tutti E' un po' di... no esclamato anche questo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bella pronta. Bella l'idea. Bella presa con il massaggio subito in acqua. Via. Bella. 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 crotellina. Bella. 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 Grazie a tutti. Grazie. Una bella crofa. Via. Liberata. Qua presa nel correntone qua. Qua presa nel correntone. Qua presa nel correntone. Qua presa nel correntone. Tu Uno. La Norte miti. Qua pituita della riggio. La noticia dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono le 7 di sera, purtroppo si starebbe avvicinando il momento migliore ma devo risalire in macchina per tornare a casa. Però è stata una bella serata, 5-6 pesci presi in mano, taglie diverse, qualche sbagliato, qualche rifiuto, qualche slamato. Diciamo che ci siamo comunque divertiti. Adesso riprendo la macchina e vado a casa perché il viaggio non è corto. Niente, questo non so, adesso non so quanti minuti verrà il video, lo caricherò lo stesso. Ditemi se è una cosa che vi può piacere, sapendo che comunque le uscite di pesca in un anno non sono molte, però quelle che faccio posso fare un video più che volentieri. Niente, direi che per questo video è tutto e noi ci riaggiorniamo al prossimo video.